Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a Corrado Passera e benvenuto a questa serata. Io potrei fare due domande sullo spread oppure sui limiti del credito per le imprese. Quando comincia così diventa pericoloso. Ma preferisco chiedere questo perché siamo tutti adulti e vaccinati. Quindi Corrado Passera, lei è stato ministro, cinque ministeri avevi nel super ministero se ricordo, ma nessuno è perfetto. Lei ha visto da banca intesa l'industria, l'impresa e il mondo. Ha fatto tante cose nella sua vita. Quindi spiegami questo. Il presidente degli Stati Uniti è arrivato oggi in Giappone dopo aver insultato i giapponesi. Il presidente degli Stati Uniti ha attaccato Draghi e poi ha lusingato Draghi tutto in pochi giorni, che per uno bipolare non è sorprendente. Il presidente degli Stati Uniti ha insultato il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, cercando di rendere la banca centrale americana non indipendente, ma politicizzato. Accade anche in altri paesi dove si vuole mettere le mani sull'oro della banca centrale. Ci sono le idee eccentrici dappertutto. Oggi un vice primo ministro di questo governo, non ricordo quale, ha chiamato Atlantia Decotta o Decotto, non conosco la parola bene in italiano, ha insultato la più grande azienda, una delle più grandi in Italia, e l'altra ha usato parolacce, che non ripeto qui sul palco, per attaccare di nuovo la Commissione Europea, la Banca Centrale Europea, l'Unione Europea, eccetera. Questa classe dirigente in Italia non ha creato un anno bellissimo, perché siamo a crescita zero in questo momento, e avremo fortuna se rimaniamo a zero e non andiamo a consegno meno quest'anno. Quindi la domanda per Corrado Passra, con tutto questo che accade fra il mio paese, l'Europa, l'America, non abbiamo neanche parlato di Cina, che cosa sta succedendo in questo mondo? Se avessi la risposta così facile probabilmente sarei al posto di altri. No, sta succedendo un certo disordine, questo è chiaro, però, e lo dico ad Alan che mi dà del lei perché siamo sul palco ma poi siamo anche amici, cioè io cerco di vedere queste stesse cose anche da un altro punto di vista. È chiaro che quello che sta succedendo è il passaggio preoccupante da G20 a G0. Noi ci abbiamo messo tanto tempo per costruire un meccanismo di condivisione delle responsabilità e a causa di varie cose, ma in particolare di una persona che è l'attuale Presidente degli Stati Uniti, stiamo facendo passi giganteschi nella direzione opposta. G0 vuol dire che si rinuncia a condividere la responsabilità dello sviluppo del mondo in modo pacifico, in modo costruttivo. questo va insieme e quindi la polemica con Draghi è solo un aspetto di questo, va insieme alla fortissima antipatia che sia l'amministrazione Trump sia anche la Russia hanno per l'unica, vera, grande potenza alternativa a loro che è l'Europa. L'Europa non viene fuori, non riesce ad essere quello che potrebbe essere, ma in realtà l'Europa e l'Euro sono la vera, unica, grande alternativa, ma se vorranno che sia un'alternativa, se no alleata delle democrazie occidentali e oggi siamo in un momento in cui in tanti cercano di fare in modo che il lavoro fatto in questi decenni si interrompa. Poi ce la mettiamo del nostro, perché certamente l'Europa non sta facendo tutto quello che potrebbe fare per convincere gli europei della sua importanza, perché l'Europa, al di là del fatto di aver assicurato la pace che non è poco, è la prima volta nella storia d'Europa, al di là del fatto di aver assicurato economia in crescita per molti decenni e non è poco, è l'unico modo che i nostri paesi hanno di posizionarsi in maniera sovrana, indipendente, autonoma, libera, in un mondo che è oggettivamente diventato dominio di tre o quattro grandi potenze dove o noi ce la giochiamo insieme da potenza, da grande potenza, o se no andiamo sotto come effettivamente vorrebbe, e certe parole del Presidente degli Stati Uniti sembrano dimostrarlo, oggi si vorrebbe. Poi Alan ha accennato a alcune libertà non da statistiche che sono state utilizzate, però ecco non dimentichiamoci mai che l'Italia che in questo momento sicuramente non gode di grande solidità economica e di grande credibilità, rimane però quella che è comunque il secondo paese manifatturiero del mondo, d'Europa, sicuramente il quinto paese in termini di capacità di esportazione, di essere presente sui mercati internazionali, è comunque un paese presente e forte in tanti settori che saranno chiave nel futuro del mondo. Pensate alla nostra forza che abbiamo nel mondo della salute, nel mondo della meccanica fine, nel mondo della robotica, nel mondo dell'agricoltura specializzata, nel mondo del turismo, nel mondo del design, nel mondo della moda, cioè tutti i settori che cresceranno e questo lo dico non perché sottovaluti le oggettive ragioni di debolezza, di incertezza, di fragilità che oggi ha il nostro paese, ma non dobbiamo mai dimenticarci le nostre solidità che poi qui dentro sono fortemente rappresentate. Scusi, ma che l'Italia sia un grande paese, una forte economia alla fine, importante nel mondo, sappiamo, quello che io dico con ramarico e con tristezza è tutto questo grande potenziale dell'Italia mi sembra in questo momento in qualche modo inibito? No, le stiamo non utilizzando sicuramente al meglio, ma peggio, rischiamo che molte di queste cose diventino anche debolezze. Vogliamo parlare di finanza più facile? Lasciamo il mondo? Sì, l'unica cosa che dobbiamo dirci tra di noi, perché siamo qua dentro classe dirigente, non possiamo dire che è colpa degli altri. Ecco, se siamo un po' arrivati a questa situazione è anche perché per troppo tempo non abbiamo saputo interpretare il senso profondo di disagio di tantissime persone nel nostro paese e questo ha portato poi a scelte, come è già successo tante volte nella storia, estreme nel senso di, come dire, quasi fideistiche nei confronti di qualcuno che prometteva l'impossibile. Cioè significa che ci sono stati grossi errori della classe dirigente nel passato che ci ha portato oggi e non parliamo solo del fatto che gli elite, io dico le cose che lui non vuol dire, gli elite di centrosinistra in America, con Hillary in Italia, con Renzi e company, in Inghilterra, in Germania e in Francia, tutti sono screditati perché tutte le elite del centrosinistra negli ultimi dieci anni erano un po' troppo innamorato del mercato ma hanno dimenticato l'aspetto sociale. No, no, non è solo di una parte politica perché poi negli anni si sono alternati governi di diversa natura. Di certo abbiamo lasciato creare, abbiamo lasciato crescere paura di futuro e quando troppa gente ha paura del futuro cerca difese, cerca nemici, cerca soluzioni facili, cerca, come dire, colpevoli di questa situazione. Comunque l'Italia ha quelle forze che dicevamo, oggi non le sta mettendo in uso, anzi è un po' isolata e rischia di non sfruttare anche le prossime scadenze europee, però quelle forze ci sono tutte. Però scusami, adesso ascoltando questo, io mi metto nei panni di qualcuno seduto qui, che è un manager, che fa parte della classe dirigente, che sia finanza, legale, quello che è. Loro forse vogliono chiedere, ma passera, dopo essere stato ministro, dopo aver capito l'economia italiana dal punto di vista nazionale, sia con la seconda banca più importante del paese, sia del governo, che consigli ci offre a noi, la classe dirigente abbastanza giovane, vedo, del futuro, di oggi, in una situazione in cui vogliamo spararci, siamo alla frutta, passera. Qual è il suo consiglio per noi? Di rimboccare le manecche, tirare avanti come imprenditori e manager hanno sempre fatto, nonostante il governo di giorno o c'è qualcosa di più sostanzioso in un messaggio per loro? Che devono fare e pensare loro? Allora, proprio perché alla fine tutti noi, non voi, cioè tutti noi ci facciamo quella domanda, poi nella vita sono i fatti che contano. E quindi uno dice, ma tu Corrado, ok, fai questi discorsi, ma poi punti su questo paese o ti stai preparando qualche riserva da qualche parte? Ecco, io ho scelto di investire buona parte, se non di più, dei miei risparmi nel fare una nuova azienda in Italia, una nuova banca. Io vorrei, dimmi, fra due minuti vorrei sentire, perché questa è la tua risposta, la sua risposta. Ecco, la mia risposta. La domanda è che devono pensare la povera gente, che non è povera, ma che deve vivere in questo caos europeo, di questo momento, con l'economia che va nel toletta, è un classe dirigente mediocre e semifalito. Cosa devono pensare e fare loro? Allora, prima di tutto devono pensare che siamo tutti classe dirigente e non è un'altra parte della società che ha le uniche responsabilità, perché poi ognuno ha a casa sua, nella sua azienda, nel suo studio, nella sua famiglia, parte della responsabilità. Secondo me abbiamo tutti la responsabilità di far sì che quelle forze del nostro paese vengano poi messe ad uso. E non è che ci vogliono cose pazzesche. Ecco, convinciamoci che sono cose fattibili e alla nostra portata. Avendo avuto la fortuna di vivere situazioni sia pubbliche che private, in cui con lavoro di squadra si sono messe a posto delle cose che sembravano impossibili, le poste, oppure si è creata da una banca regionale, una piccola banca locale, abbiamo creato una delle più belle banche europee, oppure anche in quei 12 mesi di ministero siamo riusciti a sbloccare così tante cose che non andavano bene. Cioè io ho la riprova, cioè io so, ma molti di voi a casa loro hanno la stessa conferma, che le cose da fare non sono cose impossibili. A noi servono un po' più di investimenti in tre aree, cioè tutto ciò che è innovazione, avevamo anche una buona legge che era l'industria 4.0, in istruzione, dove non stiamo investendo abbastanza, e in infrastrutture. Dobbiamo sistemare due cose che sono sistemabili, che hanno a che fare con la burocrazia e la giustizia, ma avendo vissuto dall'interno la burocrazia pubblica e amministrazione, io vi dico che è fattibile la gente che ci lavora dentro, magari ce ne sono anche qui dentro, hanno tutta la disponibilità a farlo, e poi abbiamo da prenderci cura di una crescente quantità di povertà, al plurale, perché sono tanti diversi tipi di povertà che creano ansietà, malumore e odio sociale. Ma sono tutte cose fattibili e, fortuna della vita per me è stato, toccare con mano affrontabile. Ok, io traduco e forse spaglio, mettete un passo dopo l'altro, andate dritto, cercate di valorizzare quello che fate in termini di una meritocrazia che esiste poco in questo paese, ma andate dritto lo stesso, e cercate di sperare che vivremo in un momento più sano nel futuro prossimo. Non l'ha detto questo, ma secondo me è quello che è vero. Costruiamolo, facciamolo, e molti di loro lo vivono quotidianamente. Parliamo invece di Corrado Passua. Che cos'è questa banca? I limiti? Io ricordo l'anno scorso eravamo insieme per una chiacchiera e mi ha detto ho rifiutato una somma gigantesca, perché mi hanno nominato una cifra molto importante, oltre un miliardo che era offerto, con meno, solo 6 o 700 milioni, ho deciso di fare questo progetto che veramente potrebbe aiutare il mio paese, la mia economia. Allora, cos'è questo progetto dei limiti? Raccontaci. Allora, questo progetto è un progetto imprenditoriale in un settore molto considerato, maturo e forse non modificabile, che è quello bancario. Cioè, oggi sta cambiando tutto in quel settore, perché le tecnologie digitali, i nuovi entranti, le nuove regole, fanno sì che molti degli operatori attuali non saranno più in grado di andare avanti, altri ne arriveranno, i grandi della tecnologia ne stanno occupando un grande pezzo, ma soprattutto, secondo me, si creeranno dei nuovi operatori capaci di soddisfare dei bisogni che oggi non sono soddisfatti. In particolare, noi abbiamo deciso di costruire una banca che fa soltanto, lasciatemi dire, il credito più difficile. Cioè, il credito a quelle aziende che vanno già bene, ma potrebbero andare meglio se avessero supporto, il credito alle aziende che non vanno bene, ma che possono essere messe a posto, o addirittura a quelle che sono andate molto male, ma dove c'è ancora qualcosa da recuperare. Stiamo parlando di un pezzo molto importante dell'economia italiana, perché soprattutto la prima categoria, cioè le imprese che vanno, ma se avessero le risorse potrebbero andare molto di più, stiamo parlando di un pezzo veramente importante. E quindi aiutare questi tre segmenti, questi tre pezzi dell'Italia, può significare fare crescita, vuol dire significare fare occupazione. Si può fare oggi in maniera molto diversa che in passato, usando molto le tecnologie, usando i migliori dal punto di vista delle competenze, specializzandosi e facendosi solo quello. E con solo questa idea, come diceva Alan, l'anno scorso, con il mio piano di impresa, sono andato in giro per l'Europa e ho raccolto questi 600 milioni che servivano per cominciare. Ma questo vuol dire che per un progetto ancora del tutto potenziale, i mercati internazionali in una start-up italiana hanno messo 600 milioni. E questo da italiano è stato molto gratificante. E anche in un momento difficile come l'anno scorso estate-autunno, in cui potevano ancora uscire questi investitori, l'investimento è stato confermato. A dimostrazione che l'interesse per l'Italia è tutt'altro che... Facci capire un po' meglio. Fate private equity, fate company doctoring, fate prestiti solo a società in sofferenza, distressed, o anche quelli... Spiegaci meglio. Giusto. Fammi capire meglio. Facciamo credito, di solito a lungo termine, a imprese che vanno bene o benino ma che hanno dei progetti per fare il salto dimensionale o di geografico o tecnologico e finora magari non hanno trovato la banca che li accompagnasse in questo. Oppure, che è la parte più complicata ma anche di maggiore soddisfazione, andiamo a intervenire in casi di aziende che hanno problemi finanziari o industriali anche seri, ma dove c'è un imprenditore, un capo azienda, un gruppo di investitori che hanno un piano sufficientemente credibile e allora dove altri magari se ne vanno, i famosi UTP, gli incagli di un tempo, cioè dove le banche tradizionali hanno la tendenza a uscire, ecco noi se ci convinciamo che il piano è credibile entriamo, portiamo magari anche chi investe capitale, facciamo sì che per due, tre, quattro, certe volte cinque, sei anni si lavori insieme per riportare questa azienda in ordine. Anche voi avete un capo di crediti, perché se io capisco bene il sistema bancario italiano di 2019 comandano i capi di credito, lui quando era banca tesa c'era uno che si chiamava Saviotti, Saviotti è poi diventato capo di BPM dopo, sono questi che sono i doctor no dell'economia italiana, cosa è diverso dall'economia italiana? Cosa è diverso qua? Perché le altre banche vengono criticate sempre, quindi scusa se sono un po' duro, ma devi essere, no poi essere duri è un altro problema. Allora rispondi. Allora, fare credito nelle situazioni difficili non può essere più nelle mani di una persona per quanto brava che fa i crediti. Il bello di fare questi interventi è che tu metti intorno al tavolo, oltre che l'azienda, metti intorno al tavolo gente che è molto forte come banca, quindi sa fare le valutazioni bancarie, ma se fosse solo quello di solito si spaventerebbe di fronte ai problemi di quell'azienda. Allora ci vogliono, noi li chiamiamo tutor, cioè dei dirigenti industriali di quel settore che conoscono quel settore, che magari conoscono anche quell'azienda, che comunque si fanno garanti che il piano che quell'azienda ha preparato è solido e poi seguono nel tempo questa azienda. Ma ancora non basterebbe, perché in taluni casi se tu in certi settori non hai la visione complessiva del mondo di cosa succede in quel tipo di attività, non ti sentiresti di fare certi investimenti. Allora qui ci vengono le nuove tecnologie, i data analytics, il machine learning, eccetera, che è il contributo di queste persone che noi abbiamo assunto nel campo delle tecnologie e che portano all'imprenditore prima di tutto, al capo azienda e a chi deve valutare il credito, la prospettiva globale, i dati, i benchmark, i confronti, le sensitivity e quindi l'azienda in questo processo, anche se alla fine dovessimo arrivare a non essere d'accordo sull'operazione, riceve talmente tanto di contributo proprio di valore aggiunto che si stanno creando con tante aziende con le quali stiamo lavorando un rapporto veramente forte e se sei una banca che poi sta insieme a un'azienda per 5-6 anni è credito, ma di fatto diventa una partnership quasi di capitale. Quindi la vostra porta aperta a tutti questi non siete easy ma siete più easy degli altri per le imprese. Easy nel senso di? Aperto. Aperto. Non chiuso. Assolutamente. Certo, poi si fanno queste operazioni quando c'è la voglia dalla parte dell'impresa di mettersi in gioco e noi ci mettiamo quel po' più di coraggio che tipicamente si trova in banca l'accompagnare. Il coraggio viene meglio quando non hai un bilancio pieno di sofferenze perché siete nuovi e puliti e avete tanti capitali. Questo facilita un po', eh? Questo facilita. Però la cosa che facilita di più sono queste 300 persone alcune sono con me stasera qua scelte una per uno dalle migliori aziende ma non solo bancarie di tanti settori. Cioè le nostre 300 persone vengono da 109 aziende diverse e le abbiamo scelte una per uno per comporre una squadra che, mi permetto di dirlo, non è seconda a nessuno. Il fatto di venire poi da diversi paesi, da diversi settori con questa forte componente anche tecnologica ne fa una squadra di intervento robusta. Bene, qualcosa che vuoi aggiungere sulla prospettiva per l'economia italiana o europea? Allora, l'Europa ha un'occasione strepitosa nei prossimi mesi che è quella di dimostrare che serve. Di fatto negli ultimi anni, negli ultimi mesi sicuramente, ma negli ultimi anni di fatto si è accontentata di gestire dei processi e la gente si è giustamente spassionata, cioè intristita sull'Europa. Era solo una specie di esaminatore periodico dei conti. Ecco, l'Europa unita, l'Europa insieme, l'Europa noi, può e deve, secondo me, nei prossimi mesi dimostrare che può fare delle cose che i singoli paesi non potrebbero fare. L'Europa come grande potenza e oggi è la principale, insieme, noi siamo la principale economia del mondo. E in più abbiamo una combinazione di modello economico e di modello sociale che oggettivamente non è secondo nessuno. Oggi noi dobbiamo usare questa nostra forza per impostare un piano di investimenti che io chiamo federali nel campo della innovazione, nel campo della istruzione e della formazione e nel campo delle infrastrutture di alcuni trilioni finanziati solidalmente a livello europeo, qui sì che servono gli euro bond, e fare quel click in più, quel salto, qualcosa che oggi manca all'Europa e che è assolutamente alla nostra portata. E qui ci viene il ruolo della leadership, dei singoli paesi e di chi sapremo portare al vertice dell'Europa. Ultima domanda e poi chiudiamo perché probabilmente io sono andato oltre il nostro spazio, scusate. Ma lei prima ha detto sia Putin sia Trump hanno interesse nell'indebollamento dell'Europa, del progetto europeo. A Putin e Trump possiamo aggiungere Nigel Farage, Boris Johnson, Marine Le Pen è un signore innominabile che si occupa di nave e di poveracci nel Mediterraneo che fa viceprimero di questo paese che non nomino stasera perché è una buona serata. Quindi in queste circostanze con tutti contro l'Europa dall'esterno e da dentro cosa possiamo fare per realizzare questa Europa che è amico? Allora prima di tutto fare quello che l'Europa può fare e i singoli paesi non possono fare che è quello che ho detto prima. Se però ci pensiamo gli europei hanno dato nel loro complesso un segnale chiarissimo e fortissimo di voler andare avanti. Poi alcune delle persone che hai citato hanno sfruttato le paure le incertezze gli odi che comunque in situazioni di lunghe recessioni si creano si sono presentati e hanno preso oggettivamente una quota dei voti europei estremamente di minoranza. È un peccato che l'Italia non si possa giocare alla grande il prossimo giro in Europa perché si è auto isolata però io rimango convinto che se la classe dirigente del paese che è qui rappresentata si impegnerà ecco cioè noi quello che possiamo giocare come Italia e in Europa è assolutamente alla nostra portata però solo se non pensiamo che è responsabilità di altri solo se ce la prendiamo in diretta. Grazie a Corrado Pasqua per una bellissima conversazione ringraziamento un applauso per Dottor Pasqua grazie a Corrado Pasqua